Non è che tipo adesso mi riprendi di nuovo, ma alla fine mi prenderanno tutti quanti verifici per questa cosa, la bellezza della vita. Però alla fine è vero. Ma tu lo pensi veramente? Mi stai riprendendo? No, no, sto inquadrando, ma non ti sto riprendendo. Lo penso veramente, è certo che lo penso veramente. E allora non ti vergognare. Non mi vergognare se stessi dando spettacolo qua a Draghetto. Ma non c'è un po' che ti guarda. Non c'è quasi nessuno sul Draghetto, solo poche persone. Adesso devo prendere Giorgio e... Se io ho detto che mi ero fatta 502 canne, no, non si dicono queste cose, non si dicono.